Buon pomeriggio, ben trovati. Spazio Salute ritorna anche questa settimana per parlarvi oggi di una ghiandola tanto piccola quanto importante perché permette il corretto funzionamento del nostro organismo, permette la correttezza di diverse funzioni legate al nostro organismo. Stiamo parlando della tiroide e in particolare oggi oltre a capire che cos'è la tiroide, come funziona e quanto sia importante parleremo anche del tumore legato alla tiroide. Ad accompagnarci in questa puntata il dottor Massimo Torlontano, ben trovato dottor Torlontano. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Responsabile dell'unità operativa di endocrinologia proprio di casa sollievo della sofferenza. A lei oggi affidiamo quindi questo compito e come sempre, visti i tempi sempre molto stretti, partiamo dalla domanda delle domande. Che cos'è la tiroide? Io ho provato brevemente a spiegarla, ma ovviamente a lei il compito di spiegarla come si deve. Come lei ha anticipato, è una ghiandolina piccolissima di pochi grammi di peso che però ha un compito fondamentale per far funzionare l'intero organismo. In poche parole, senza tiroide non si vive. La tiroide è importante sia per lo sviluppo del feto, quindi del bambino durante la gravidanza, e anche poi nell'organismo dell'adulto perché permette il corretto funzionamento di tutti gli organi, a partire dal cuore, l'intestino, il cervello e regola anche il metabolismo dell'organismo stesso. Quindi davvero una ghiandola piccola ma fondamentale, dovremmo avere anche un'immagine che ce la riesce a fare inquadrare anche visivamente. Eccola qui, è una ghiandola che si trova proprio nella parte anteriore. Nella parte anteriore del collo, sì, è divisa, è una forma come vedete quasi a y, con due lobby, uno destra e uno sinistra, poi collegati da questa parte in mezzo che si chiama Istmo. Oggi in particolare noi parleremo del tumore tiroideo, quindi appunto il tumore che colpisce la tiroide. Partiamo subito da un dato che merita di essere analizzato e approfondito, proprio per chiarire, ovvero la sua diffusione. Quanto è diffuso il tumore alla tiroide? Allora, negli ultimi anni, ma questo soprattutto nei paesi industrializzati in cui c'è la tecnologia, si è notato un aumento progressivo dell'incidenza dei tumori tiroidei. Il grafico che adesso dovrebbe comparire si riferisce agli Stati Uniti e come vedete dagli anni 80 fino agli anni 2010 c'è stato un progressivo incremento dell'incidenza dei tumori della tiroide. Lo vediamo nel grafico, spiego per chi ci segue a casa, è il quadrato alla parte sinistra della parte sinistra, in cui si vedono appunto due linee che sono appunto in aumento. Ecco, la linea diciamo tratteggiata che sale è riferita al tipo istologico che è quello che in realtà è l'unico che è aumentato negli anni, che è il carcinoma papillifero della tiroide. Vi do subito una buona notizia perché il carcinoma papillifero è un tumore poco poco, molto poco aggressivo. Ok, quindi si sconfigge, poi vedremo si cura, si sconfigge e capiremo anche come. Ma come si manifesta? Quali sono i campanelli d'allarme che magari devono appunto portarci a cercare una diagnosi? Ma in realtà il tumore della tiroide classicamente non è sintomatico, quindi non ci sono dei sintomi che possano farcelo sospettare. In realtà noi dovremmo fare dei controlli in pazienti che possono essere a rischio per questo tipo di tumori. Quali possono essere? Quelli ad esempio che hanno una familiarità. Ecco, quindi ci sono dei soggetti a rischio. Sì, in teoria, se c'è una familiarità per il tumore, ci sono altri familiari che hanno avuto un tumore della tiroide, è giusto che prima o poi anche i fratelli o i figli si sottopongono almeno a un'ecografia della tiroide. Oppure le radiazioni, i pazienti che sono stati irradiati per qualche motivo, oppure che sono stati sottoposti a radiazioni per motivi anche lavorativi, sono potenzialmente più a rischio sia per la formazione di noduli della tiroide che per la formazione di tumori della tiroide. Noi abbiamo parlato anche appunto dell'aumento, che però se non ho capito male è un aumento anche dato da una maggiore diagnostica, cioè vengono diagnosticati più frequentemente. Allora, rimaniamo nell'ambito della diagnosi. Qual è la diagnosi, diciamo, reggina per individuare questo tipo di tumore? Sì, diciamo, lo strumento diagnostico principale è l'ecografia della tiroide. Per questo l'incidenza è molto evidente nei paesi industrializzati, perché dagli anni 90 in poi si è iniziati a utilizzare l'ecografia, mentre prima non c'era. Fino agli anni 80 l'ecografia praticamente non esisteva. Quindi aumentano le diagnosi, che però ci portano anche poi ad intervenire in tempo, immagino, no? Sì, aumentata la diagnostica, l'uso anche, spiegherò anche eccessivo dell'ecografia, ha portato un aumento di diagnostica di nodule tiroidei. Ecco, anche su questo abbiamo un'immagine che appunto, grazie a lei ci sintetizza. L'ecografia è importante, ma a chi e perché? Ecco, ho voluto puntualizzare questa cosa, perché ad esempio si pensa, facciamo fare l'ecografia a tutta la popolazione, così siamo tranquilli. Ma non è assolutamente così, perché dove in altri paesi è stata fatta una cosa del genere. Ecografia a tappeto, diciamo, no? Tutta la popolazione cosa ha portato? Ha portato a una quantità, un aumento enorme degli interventi chirurgici, la maggior parte dei quali perfettamente inutili. Quindi a chi va andrebbe fatta l'ecografia? Ai soggetti che hanno un motivo per essere controllati. Qui vedete ad esempio la familiarità di cui avevo parlato, pazienti già irradiati, anche di questo abbiamo parlato. Alla gravidanza non è neanche detto che tutte le donne in gravidanza abbiano bisogno di un'ecografia, ma sicuramente di un dosaggio degli ormoni tiroidei sì. E poi si appunto, come dire, la… Questo porta anche, diciamo, ad intervenire chirurgicamente lì dove è realmente necessario. Sì, esatto. Quindi, perché rispetto a fare l'ecografia significa trovare in 6-7 casi su 10 qualche nodulo, perché questa è la proporzione. E che non è detto che vada operato, giusto? No, il 60-70% di noi adulti hanno qualche nodulo. Quindi è importante una diagnosi, come dire, che realmente serva, quindi non ecografia a tappeto, ma una diagnosi mirata, una diagnosi completa, che poi porta appunto alla cura. Alla terapia abbiamo nominato appunto l'intervento chirurgico, che è appunto la cura per il tumore alla tiroide. Allora, capiamo come viene svolto questo intervento chirurgico, la cosiddetta tiroidectomia. A spiegarcelo è il dottor Danilo De Martino. Ascoltiamolo. La terapia chirurgica si dà in seguito all'evidenza strumentale del nodulo tiroideo, essenzialmente sull'esame citologico. L'esame citologico ci consente di individuare quei noduli tiroidei che devono essere sicuramente operati. Nelle varie classificazioni i noduli sospetti sono quelli che hanno delle caratteristiche ecografiche particolari e che alla citologia presentano delle variabili istologiche, citologiche importanti che ci dicono che il nodulo deve essere portato via. Il trattamento iniziale del carcinoma papillifero della tiroide è la tiroidectomia. In casi selezionati si può proporre al paziente quando si tratta di un nodulo singolo, non particolarmente grande, quando non ci sono linfonodi metastatici, si può proporre anche la loboistmectomia, cioè asportare la metà della tiroide sede del nodulo neoclastico. Altrimenti l'indicazione principale è la tiroidectomia. La tiroidectomia in che cosa consiste? Consiste nella asportazione della tiroide, si legano i peduncoli vascolari, si tira via la tiroide e fondamentalmente bisogna fare attenzione a che cosa? Al risparmio delle paratiroidi e al rispetto del nervo ricorrente. Le paratiroidi sono quattro piccole gliandoline che si trovano nel contorno della tiroide e che con la tiroide hanno la stessa vascolarizzazione e che servono per mantenere il metabolismo del calcio a livelli ottimali. Nel caso del nervo ricorrente, il nervo ricorrente è quel nervo che sale dal mediastino, si infila nella ringe e consente la motilità delle corde vocali. Attualmente ci sono tre tipi di tiroidectomia da fare, di chirurgia della tiroide. La chirurgia tradizionale, piccola incisione cervicale anteriore, la tiroide si trova nella loggia pretracheale immediatamente sotto i muscoli pretiroidei ed è una chirurgia ormai standardizzata ed è il gold standard della chirurgia tiroidea. La MIVAT che è la chirurgia della tiroide video assistita e da ultimo la chirurgia robotica della tiroide che vede degli accessi transascellare, transorale ma che viene praticata in pochi centri in Italia, anche se c'è qualcuno che ha qualche esperienza maggiore, ma il cui fine non è tanto l'asportazione della tiroide quanto il fine estetico, evitare la cicatrice cervicale anteriore. Comunque l'intervento in qualsiasi modo si faccia, tradizionale, MIVAT o in robotica, prevede l'asportazione di tutta la tiroide o in pochi casi selezionati la emitiroidectomia. E il dottor De Martino, chirurgo toraco-polmonare in casa sollievo della sofferenza, ci ha appunto spiegato l'intervento chirurgico in caso di tumore alla tiroide. Noi restituiamo la linea la regia solo per qualche seconda e poi torniamo ancora qui con Spazio Salute. E ritorniamo in diretta, stiamo parlando di tiroide, stiamo parlando di tumore alla tiroide, lo stiamo facendo in compagnia del dottor Massimo Torlontano, responsabile dell'unità operativa di endocrinologia in casa sollievo della sofferenza. Siamo partiti dal descrivere la patologia, abbiamo anche detto appunto sulla sua diffusione fino ad arrivare alla cura, l'intervento chirurgico. Ora diamo una buona notizia ai nostri telespettatori perché il tumore alla tiroide non è un tumore aggressivo ma soprattutto si sconfigge, giusto? Sì, per fortuna i tumori della tiroide nella stragrande maggioranza sono tumori poco, pochissimo aggressivi, tant'è vero che la sopravvivenza a 10 anni è oltre il 90%, tra il 90 e il 95%, quindi capisce bene, se parliamo ad esempio di tumori del polmone c'è una sopravvivenza solo del 50%, ad esempio a 10 anni. Quindi questo ci può rassicurare che preso in tempo poi insomma con una diagnosi appropriata, con un intervento chirurgico si può ritornare ad una vita diciamo normale, ma dopo l'intervento cosa succede? Il fatto anche del preso in tempo è relativo quando parliamo di tiroide perché essendo tumori poco aggressivi, se noi la diagnosi la posponiamo di qualche anno non cambia nulla, quindi questo è anche importante, non c'è il criterio di urgenza, non esiste in questi casi. Subito dopo la terapia chirurgica che cosa succede? Dopo la terapia chirurgica a seconda delle situazioni, a seconda del tipo di tumore, delle dimensioni, della presenza o meno di linfonodi metastatici, si decide se completare l'intervento anche con un trattamento con lo iodio radioattivo. Quindi con una terapia? Sì, con un trattamento molto semplice da fare, è una specie di radioterapia interna, si prendono delle capsule per via orale una volta sola in genere e basta. Sappiamo quanto è importante avere un approccio multidisciplinare per la cura proprio delle varie patologie, l'abbiamo imparato in queste varie puntate di Spazio Salute dall'inizio della stagione, non fa eccezione ovviamente anche trattare il tumore alla tiroide. Un approccio multidisciplinare è fondamentale, soprattutto ci sono anche tante innovazioni in campo chirurgico e a parlarci di questo è il dottor Marco Taurchini, primario di chirurgia toraco-polmonale. Ascoltiamolo. Stiamo parlando di patologie la cui frequenza è clamorosamente in aumento, quindi il numero di casi riscontrati anche sul nostro territorio sta aumentando. Per seguire bene, per inquadrare bene questo tipo di patologie è necessario sicuramente un approccio multidisciplinare perché se è vero che in prima battuta di solito la prima visita viene eseguita da un endocrinologo è anche vero che molto spesso nel proseguo dell'iter diagnostico terapeutico la figura del chirurgo diventa importante e in un numero non trascorabile di casi successivamente anche nel follow up, nell'eventuale terapia, soprattutto nei tumori, quindi la terapia post-operatoria anche il medico nucleare assume una certa importanza. Ritengo quindi molto importante che è fondamentale che il paziente si rivolga in centri dove tutte queste figure professionali sono assolutamente aggiornate, presenti e lavorano gomito a gomito per produrre un risultato ottimale nel seguire il paziente. Anche in questo campo, come un po' in tutta la chirurgia, oggi ci si sta muovendo sempre più verso la ricerca di approcci mini-invasivi. La diagnosi precoce, la diagnosi corretta ci porta fortunatamente a capire che c'è un problema alla tiroide quando ancora questo problema, sia esso tumorale o a volte anche di un semplice corso, non ha dimensioni importanti e questo ci consente di eseguire una chirurgia la più mini-invasiva possibile. Oggi ci sono approcci con il robot, ci sono approcci con comunque tecniche mini-invasive altrettanto efficaci come quelle che classicamente ci sono state insegnate e grazie anche all'introduzione sul mercato di strumenti cosiddetti ad alta energia che consentono di ottimizzare la dissezione riducendo i rischi operatori, sia quello del sanguinamento ma soprattutto attraverso le nuove metodiche di monitoraggio del sistema del nervo ricorrente, anche ridurre le complicanze che purtroppo sono sempre molto temute dai pazienti e cioè la disfonia, cioè quell'abbassamento della voce che è legato a un piccolo stiramento del nervo ricorrente, che è il nervo che classicamente vale corde vocali. Oggi con tutte le tecnologie a disposizione le complicanze sono sicuramente minimizzate e questa è una chirurgia sicura, è una chirurgia che richiede dei ricoveri brevi generalmente ed è quindi molto spesso fortunatamente risolutiva. Grazie al dottor Taurchini, primario di chirurgia toracopulmonare in casa sollievo della sofferenza, abbiamo parlato di innovazione, di multidisciplinarietà, un termine difficile da pronunciare ma come dire, è un approccio utile e necessario da avere proprio nella cura. Che cosa dà in più? Sì, sì, ma questo vale un po' per tanto tutti i tipi di tumore, in particolare per la tiroide è importante perché noi ad esempio facciamo, lo mettiamo in pratica così, più o meno due volte al mese, facciamo delle riunioni a cui partecipano l'endocrinologo, il chirurgo, il medico nucleare, il citologo che è quello che ha letto il vetrino dell'ago aspirato, se serve anche il radioterapista, l'oncologo quasi mai, serve in questi casi, discutiamo i casi dei pazienti da operare oppure da far rioperare, prima discutiamo fra di noi, poi facciamo entrare il paziente e discutiamo con lui quello che pensiamo sia l'approccio terapeutico migliore. Quindi anche un approccio mirato sui singoli casi, individualizzato. Un lavoro di gruppo che è come dire, dà sicuramente una marcia in più, se così possiamo dire, alla terapia proprio. Sì, perché la terapia va cuscita sul paziente, non esiste la terapia standard per tutti. Vent'anni fa era così, terapia standard per tutti che era molto aggressiva, adesso invece si è molto meno aggressivi, l'aggressività è rivolta solo a quei pochissimi casi che ne hanno bisogno. Terapie meno aggressive, sicuramente più mirate, ci sta dando un sacco di buone notizie il dottor Torlontano, questa è una patologia, l'abbiamo detto, non è un tumore molto aggressivo, è un tumore curabile, ovviamente poi l'innovazione e la ricerca, come sempre anche in questo campo, ci danno delle possibilità in più e i pazienti risentono anche meno di tutta una serie di terapie, di percorsi, di interventi ai quali devono sottoporsi. A proposito di multidisciplinarietà, parliamo anche di un altro strumento utile proprio durante l'intervento, una sorta di guida in più anche per il chirurgo, ovvero l'ecografia intraoperatoria. A spiegarci che cos'è e come funziona è il dottor Ubaldo Cappucci, ascoltiamolo. L'ecografia intraoperatoria è una nuova metodica innovativa che abbiamo introdotto nel nostro reparto, specialmente in sala operatoria, per il trattamento delle metastasi linfonodali nella patologia del tumore della tiroide. Si tratta di pazienti che già sono stati sottoposti a un precedente intervento di tiroidectomia per tumore. È grazie ad essa che il chirurgo può eseguire sotto il diretto controllo ecografico l'atto chirurgico per l'asportazione di quei linfonodi del collo che sono stati preventivamente mappati, che significa che prima dell'intervento si esegue una ecografia preoperatoria in modo da individuare i linfonodi dove poi il chirurgo interviene. È uno strumento molto valido e di aiuto al chirurgo perché può a fine intervento, cioè dopo che è avvenuta l'asportazione dei linfonodi, si esegue questa ecografia intraoperatoria, cioè a collo aperto, in modo da verificare la completezza dell'intervento, quindi nell'interesse del paziente. Grazie al dottor Capucci siamo arrivati al termine della puntata. Dottor Torlontano abbiamo solo un minuto di tempo. Lo userei per capire qual è la qualità della vita dei pazienti alla fine di questo iter terapeutico e se ci sono degli stili di vita corretti, delle osservazioni da appunto tenere in considerazione. Generalmente la qualità della vita di questi pazienti è ottima, anche perché, come dicevamo prima, nella maggior parte dei casi sono stati sottoposti a dei trattamenti poco aggressivi. Sì, esatto, poco invasivi. Ci sono delle accortezze che si devono... Ma, sa, accortezze particolari in realtà non ce ne sono. È importante che facciano i controlli regolari, che servono soprattutto per controllare se il dosaggio dell'ormone tiroideo, di cui ovviamente hanno bisogno, perché non avendo più la tiroide, devono prendere la compressa quotidiana, controllare che questo dosaggio sia quello giusto. Perfetto, noi ringraziamo il dottor Torlontano per essere stato in nostra compagnia questo pomeriggio, ringraziamo tutti voi come sempre per averci seguito, restituiamo la linea alla regia e a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.